La tessera senza barcode significa consapevolezza di non essere tutti uguali ma di avere tutti gli stessi diritti. Un giornale online per sapere, una web radio per parlare, un'associazione per promuovere il talento e una collana editoriale per autori non monodabili. La tessera garantisce la partecipazione gratuita a tutti i concorsi e uno sconto particolare nei corsi con contributo organizzati da Academy e dal Lab Senza Barcode. Un canale preferenziale nella nostra collana editoriale è la partecipazione gratuita alla rassegna letteraria 6 Senza Barcode per la presentazione di un libro scritto dall'associato. Le iniziative dell'associazione sono tante e in continuo fermento. Quest'anno è particolarmente importante. Senza Barcode festeggia infatti i suoi primi 10 anni di attività. Puoi visitare il sito www.associazione.senzabarcode.it